Interventi che si sono resti necessari dopo l'alluvione del 2019, quindi oggi siamo particolarmente soddisfatti di questi importanti interventi che insomma sono anche cospicui, circa 250 mila euro appunto sono stati emessi in campo appunto per mettere a posto questi tratti. Erano state le piogge prolungate e violente che nel novembre 2019 avevano colpito la provincia di Arezzo a pesare gravemente sul cerfone Padonchia. A Monterchi in particolare quattro punti erano apparsi critici ai tecnici del consorzio di bonifica 2 Alto Vallarno impegnati in un primo sopralluogo assieme ai colleghi del comune. Da qui il maxi intervento per rimettere in forma i due corsi d'acqua. A fianco all'attività di manutenzione ordinaria costante e programmata che il consorzio fa tutti gli anni sul reticolo di gestione e quindi anche qui a Monterchi, in questo caso abbiamo affiancato un'azione straordinaria. La costruzione di queste difese di sponda grazie a finanziamenti della protezione civile quindi diverse dal ruolo di contribuenza per risolvere criticità particolari, criticità che vanno attenzionate appunto risolte anche in maniera tempestiva proprio per garantire una maggiore sicurezza dei territori. In questi quattro interventi generalmente sono state ricostruite le sponde con inserimento di massi al piede in modo da dare stabilità e protezione al piede. In due di questi tratti sono state inserite anche delle geostuoie naturali in fibra di cocco che permettono un rivestimento anti-erosivo della sponda soprastante e cercheranno di tutelare la sponda anche dall'aggressione degli animali selvatici.